ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e buon inizio di settimana e che buon inizio di settimana sarebbe senza la weekend league questo recap della weekend league non trasmessa questo sabato sabato scorso insomma sabato 13 ma il fine settimana prima quindi sabato 6 marzo abbiamo trasmesso su twitch la weekend league ancora per una settimana disponibile il la live completa sul canale chiaramente tutti gli indirizzi vari sono nel video e potete tranquillamente andare a vedervela completa come sempre con collection la legge collection come sempre sennò quelle cose che fanno troppo lunghe detto questo ragazzi dal titolo come avete potuto vedere weekend league disastrosa perché sicuramente ragazzi è stata una weekend league amara è stata una weekend league tosta e più che altro a livello di di retaggio della squadra perché avevamo una squadra molto molto inferiore rispetto a tutti gli avversari che abbiamo incontrato quindi abbiamo ottenuto la riqualificazione tipo all'ultima partita tra l'altro vinta al novantesimo quindi vi spoilerò già un pochino cosa succede nel nel video e ragazzi è stata dura è stata dura e speriamo che con i premi dalla prossima che sapete che ci alterniamo con le quelle weekend league prima la mia squadra poi la sua e si ruota di poter fare cresce la nostra scuola ragazzi senza mai sciopare perché io gioco a foot da fifa 13 mi sono passati un po di anni non ho mai scioppato un centesimo quindi noi continuiamo su questa linea cerchiamo di fare le nostre formazioni cerchiamo di andare avanti e la prossima ragazzi sarà con la mia con il mio buchino faso quindi la prossima settimana vi dico già che in questa settimana uscirà anche il post partita di milano magister nati uscirà anche all'accarri al natore e vediamo se riesco a farvi anche felice ma stronzo ci sto provando detto questo ragazzi già vi del lungo vi lascio il video spero vi divertiate poi poi è il tuo account non voglio fare perché c'è tag la scosta l'abbiamo lì fa che poi tornavi indietro mi chia fra come sei lento però bello è il primo 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 primo sì no dove c'è andato io non capisco perché sim Alicia così impossibile uscire parla al piede troppi q salty ros come speed troma è tornata tornato o che la feb i pari mi hanno tutta no vabbè no ma se la becca uguale dice dall'altra parte ma c'è gol Sì, tu mai una troia bastarda. Skiher! Dai! Ciccio! No! Devo assicurare. Bello! Oh, in stile! Fantastico! In stile! Boom! Grande d'azore! Cazzo. No! Che cazzo ho fatto? Che cazzo ho fatto? Me lo dici? Quando tira Neymar non li ho mai parati. Non li ho mai parati! Non li ho mai parati! E l'hai voluto prenderlo ora! Pop! Gio Gomez Puyol! Ronaldo 95 foot champions! Cosa? Gioco! No! No, mani nella vita! Mani nella vita per il gioco questo! Ma dai! Ma perché non chiudi? Perché non chiudi? Questo è gol! Questo è gol! Questo è gol! Poi cantona, capito? C'è solo cantona, manè, Ronaldo! C'è solo cantona, manè, Ronaldo! C'è Puyol in difesa! Oh! Che cazzo! Meno male! Anche un giallino! Magari! Bene! Perfetto davvero! Perfetto davvero! C'è nessun senso di diri! Gol! Onestissimo! Ho visto un fuorigioco! Io non ne ho idea! Anch'io! Ma probabilmente perché l'ha toccata lui! A giro! A giro, Fra! Bello! Dai, è così! Turbante live! Turbante live! Mike Shosh aveva ragione! Bobo! Siamo seri! Bobo! Bomba! Bella! Kick of Glitch, dai! E... Su! Ti stanno ritracciando stanca 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 stanca! No! Sono etero! No! No Dio! Bappe cc90! Spacca quella porta! Oh! Su! Questa è una furtata! Questa è una furtata! Però hai il controllo dei giocatori li lascia andare troppo! Dimmi se ne... Eh li tengo! Si qua partono! Dai! Che culo! Stavo entrando il difensore! Perfetto! Non sto capendo! Caputo! Trighetta così! No! Dai! Sì! Sto vincendo! Sì! No! Grande pallone verticale! Donnarumma ma che cazzo ti siedi? Ma il live! Occhio al pallone per il possibile lantaggio! No! Che cazzo fa Donnarumma? No! Autogoldi! Ma pure! Kagimi! Kagimi! Fadi i fidanzi! Te l'ho detto! Bello! Lipidinoso! Lipidinoso! Tonnali! Su! No! Il turbante! Ora perdo! Ora perdo! Dammi dammi! Mi serve! Subito! Oh! Merdete! C'è un dc77 che non mi convince! Perché ad amatore dc80 qua? Oh no! Oh no! Ho scoperto! Fanculo! Gol! Come mai loro quando scattano palalpieno e non li recuperi mai? Boh! Ho visto di solo! Bello! Il turbante mi va via! Il turbante mi va via! Però Caputo è qui! Sì! Io penso di sempre il bel calcio d'angolo che ho fatto di una messa e di FIFA! Ho fatto un gol con il caputo che è la fine del mondo! Ok! Concentra il gioco su Salah lui! Concentra il gioco su Salah! Però l'ha sbagliato è l'altro! Questa è scriptata! Questo è un gioco di merda! È scriptata! Ma Anderzal ha preso di tutto! Di tutto! Ho visto che andava all'Otaro, no? Anche questo andava all'Otaro! Però alla fine è andata bene! La fine è andata bene, dai! Guardate lo fa! Vedi! Sei un coglione! Sei un coglione! Sì! Mettete a panneggiare anche ora, eh! Liborini esiste, eh! E ora fuori! Scrittata al massimo! Vaffanculo! Tu matroia, maledetta! No, la chiederà un muro! La buota, l'usore, l'usore, l'usore! No, la chiederà un muro! Sì! Vabbè, fumare col turbante! Eh? Ok, è già persa, eh! Te le faccio diventare bianchi i capelli! È già persa, questa! È già persa! Vai, già uno! No, gol da Duncan, no! Gol da Duncan, no! Benvenuto un'altra scritta! Benvenuto un'altra scritta! C'è puzza di gol! Tu ma... Maledetto il porco! Il mio spazio! Pazzo! Sabe ogni... Vediamo! Roma FC, a posto! Va bene! Parliamo troppo di Luca Cone! Ah, però lui lo fa! Io non posso farlo! Primo palo! Va bene! Cioè, che cazzo! Va bene! Che cazzo! Ma anche i passaggi di merda! Francesco non vince! Datemi retta! Chi è quello che sei? La madre! Dai! Dai! Non ci voglio credere! Come metti i piedi sul Lukaku! È la fine! Come metti i piedi sul FIFA! È la fine! Script di merda! Metto... Ok, inizialmente metto la... Bella! 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 Bellissimo! Su! Dai così! No, no, no! Questa! Questa! Zio! Puuu! Puuu! Bello! Va bene questo! Bello! Che cazzo! Che è un pazzo questo! Questo è un balato! Questo è un balato! Ciao Francesco! È bello che abbiamo 30 a partire a disposizione! No, ora ne abbiamo 19! Sì! Nel totale abbiamo 30! Sì! 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 Che gol di merda! Che gol di merda! Che gol di merda! Non è rigore! Secondo me è... Poi non lo so! Come cazzo lo fuggito il rigore? Gol! Finito! Un'altra pezza! Porco Dio! Davvero! 75 minuti! No! Bello! Che cazzo io me lo sono perso! Bellissimo! Del de... Che palle! Non ti ha... Cos'era sta mot... Che le dici? Banderiamo? Stupido! Quanto culo puoi avere? Sì! 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 Ma tu hai una vacca in calore! Che palle! Predio! La tua persona è birra! Che l'ho derore! Palazzo ha 좀... Ma qui l'amere! console! 溶 code City! Che palla! Cordné! Impossible! Inspite! Lo scuso! No! Terza! Niente! ma tu madre nascuta nascuta eeeh uff 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 io ci voglio credere due volte tra me uff 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 oh allora tutti i francesi gol gioco di merda gioco di merda da vaffanculo ma poi fa delle vittorie contro tre gol così ha fatto tre gol così ha fatto 2 parato no 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 perciò a dire ma il gioco mi sto mi sto nervoso spacco tutto finiamola qua si fa domani Tutte le quelli iniziate e ti betichi la squadra scarsa. Allora, Mendy, Kantem Martial e chi cazzo è quello della Pistol Palace? No, se riuscivo a fare io ti spaccavo da scrivani a metà. Bello! Perché non si sbatti? Non lo so Bello! Come hai fatto a farlo? Potrebbe essere 5-3? Ora è finita! Scrivigli! Il quadrato 84 non ce l'ho mai mai! Hai letto il 2004? Si, l'ho letto! Già! Ma tu! Bello! Ma che cazzo! 250! Zoom! Il ritorno è il suo! Ma è brutto! Mi si può creerlo! Bello! Ciccetto! Ciccetto! Vieni le braccia a zero! Trovo ancora che non lo abbia stimmiato fuori di più! Non mi posso stringire! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Va bene! Vediamo chi c'è! Ter Stegen! Nesta! Vinic! Son! Vai! Già uno! Gol! Devo fare! Regolare! Dai! Buono! Non ci voglio credere! Guarda come mi tocca prendere gol! De Vrij e Alexandro che so! Si scontrano due compagni! Dai su! Dai su! No io non ci sto! Io non ci sto! Il finale! Un pareggino! A parte come ne ha messo il pareggio però! Oh! Che cosa? Che cosa ho fatto? Oh! Adama! Caputo! Sì! 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 Sìì! Chi-cho! 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 Chi-cho!